Bella a tutti ragazzi, sono Daniel Pro e oggi ci troviamo qui di nuovo su Minecraft per un nuovo episodio di Hunger Games Allora, andiamo a mettere Hunger Games e andiamo in... no, questo è appena finito... vai, andiamo qua Eccoci qui in questa mappa un po' di merda, però... Vabbè, ci siamo Siamo due playa Allora, io direi di scegliere subito il kit E scegliamo questa volta un fincentro, un bread, un nerd, un pescatore, un radiatore Questo Ok, tanto qui come vedete Il server è sempre di Diamondsword Sono qui stavolta da solo perché... È sera e quindi i miei amici adesso... O staranno giocando ad un'altra cosa Oppure non lo so E... vabbè, bene, noi intanto aspettiamo qui che la partita cominci e ci rivediamo appena inizia il match Ok, rieccoci E... qui come potete vedere il gioco sta per iniziare Mancano 5 secondi Siamo 5 player, un po' pochi Però... dai, vediamo se questa volta ce la possiamo fare Ok, distruggiamo già dubbito Ok, andiamo Ok Ok Ok, questa è una parte abbastanza figa Qualcoggiuda Adesso ho messo il mouse sul computer Ma siete davvero scomodi Tanto qui Come potete vedere Il gioco sta per cominciare Cioè l'invenibilità sta per essere tolta Una cesta No Mi hanno trollato Intanto aspetta Intanto io mangio Gna 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 Ok Ok Ok, mi sto avvicinando al nostro avversario Vediamo un po' se possiamo riuscire ad ucciderlo Dark Angel Quelli stanno in team Porca putta Uh No cazzo E porca Già finito Cioè, incredibile Sono una vera schiappa Non riesco a... Ok, aspettate Ok, rieccoci Sono dovuto riloggare Perfetto Io direi di entrare nel... L'Hunger Games 2 Ok, adesso siamo spettatori però Interessante Io direi di metterci intanto che... Non possiamo fare niente Questo Questo Ma che c'è? Perché? Non posso fare niente Quanto ci sono delle palle di gas Non si capisce quante... Non si capisce quante... Sta camperando qui per caso? No Quanto c'è stato tipo qualche cartello che è morto Morto no? No Sono rimasti 6 play Ahia C'è la mucca? No Posso mazzare la mucca Con tutto va tutto a fuoco Una mela Allora Sentite Ristoppo qua e ci... Vi vediamo Appena comincia Restarta il server Ok, rieccoci Scusate per i vari stop del video Però Non cominciano mai Il server si è restartato Ora Questa rampa è un po' Abbastanza ampia Ampia Il server si è restartato E qui ci sono tutte le case E tutto il resto Ora andremo a giocare un altro match Dove ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 là sopra 6 persone quindi Aspetta Scegliamo il kit Stavolta non sceglierò Il kit Robin Hood Dato che io ne sono una schiappa Con quello Price 25 Prenderò questo Il barbaro Aspetta Sennò che altri kit ci sono Che non li ho mai provati Allora c'è Golem Vabbè non mi interessa Cacciatore Pescatore Ok Velocista One potion Cooked beef What's work Smogger 64 Fireball Titanio Ossidiana Bread Iron Iron Just play Diamonds Diamondsword Buono Mi piace Buono Titanio Un po' Cacciatore Masterchef Lol Ingegnere Kaboom Vabbè ma io sceglierei Dove Camperone Titanio Ok Il gioco Comincerà Tra 20 secondi Vedete lì Che figata Pensa che loro Sono forse Gli amministratori Ok Il gioco Il gioco è cominciato Di subito Di andare A fregarci Tutta la roba Nelle chest Buono Un enderpearl Una mela d'oro Molto utile Fatemi passare Pezzi di merda L'acqua è vuoto Qua è tutto inutile Tutto inutile Tutto inutile Ok Andiamo Scappiamo da qui No cazzo No 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 Cristo Io sono qui Ancora qua Quasi mi uccidano Devo scappare Cacchio 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 Ciao Cacchio Vabbè 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 Ma vaffanculo Però Dai Ma che cazzo E' incredibile Mi si era baggato Vabbè Vaffanculo vabbè sentite ragazzi basta non ce la faccio più ci vediamo alla prossima bella